Siamo qui per rivendicare i diritti dei nostri figli. Questa mattina la protesta di una delegazione di mamme all'esterno degli uffici delle politiche sociali Molini Marzoli a Torre del Greco. Al fianco delle famiglie Maria Orlando, responsabile dell'associazione La Libellula. Cresce la rabbia e l'indignazione, alla base del malcontento, la mancata erogazione dei contributi per il trasporto scolastico e per il trasporto dei disabili. Ci ritroviamo per l'ennesima volta qui a manifestare per la mancata elargizione di due contributi fondamentali che già l'anno scorso abbiamo esposto la loro importanza pubblicamente sarebbe il contributo trasporto scolastico e contributo trasporto presso i centri riabilitativi. Purtroppo quello presso i centri riabilitativi è dal mese di marzo che queste famiglie aspettano. Hanno aspettato i comodi della campagna elettorale, del Consiglio Comunale di cui al secondo c'è stata questa benedetta variazione di bilancio perché ci hanno detto che per insufficienza di fondi non potevano essere messe in pagamento tutte le istanze e quindi abbiamo aspettato la variazione del capitolato. Arrivata la variazione siamo ancora qui ad attendere che venga licenziato questo benedetto provvedimento che è fondamentale per queste famiglie. Trasporto scolastico invece, anche esso già la scuola ben terminata dal mese di giugno e già abbiamo iniziato il nuovo anno scolastico e questo contributo non si vede purtroppo all'orizzonte. Un contributo che ovviamente abbiamo passato tutti gli iter burocratici del caso. Mi sono interfacciata da sei mesi a questa parte con tutti gli uffici preposti, politiche sociali, ragioneria e non ce n'è neanche l'ombra. Addirittura mercoledì scorso ho chiesto un incontro istituzionale, anzi per meglio dire l'ho chiesto qualche mese fa e mi è stato solo concesso mercoledì scorso. Mi sono incontrata con l'assessore a ramo alle politiche sociali e la sua risposta non è stata una risposta esaustiva e costruttiva al fine della risoluzione del problema. Anzi addirittura c'è stata annunciata una notizia ancora più eclatante, abominevole, che è quella che verrà messa in pagamento soltanto l'articolo 3,3 per chi non è ferrato dell'argomento, ossia soltanto una categoria di diversamente abili più gravi, mentre l'articolo 1,3 per il momento non si provvederà al pagamento. Quindi adesso le mamme come stanno facendo? Adesso le mamme come sempre ovviamente stanno facendo i salti mortali perché ci troviamo dinanzi a famiglie che devono pagare necessariamente somme anche abbastanza esose, abbastanza importanti per percorsi terapeutici per i loro figli che non sempre sono convenzionati e molte volte non sono nemmeno incentri riabilitativi a Torre del Greco. Quindi queste mamme devono fronteggiare oltre ai problemi del quotidiano, che è grave ovviamente sul bilancio familiare economico, devono fronteggiare anche a quello che è il problema di garantire un percorso terapeutico ai propri bambini, funzionale alla gestione del suo quotidiano, perché se questi bambini non hanno le terapie giuste e soprattutto nella quantità richiesta dal percorso terapeutico sono bambini ingestibili, dove queste famiglie non possono assolutamente poter in qualche modo controllare, perdono il controllo dei loro figli. Io sono portavoce da anni per quanto concerne i loro diritti e la tutela dei loro diritti, quindi che non si dica, dato che già è successo, che non si dica che il nostro è un attacco strumentale di natura politica, perché a noi non ce ne può fregar di meno, a noi non interessa il colore politico, sotto questo aspetto siamo daltonici, siamo apolitici e partitici, i problemi sono quelli e meritano una soluzione. Una cosa che chiedo alla pubblica amministrazione nuova che si è insediata, che bisogna dare la priorità ai provvedimenti dove si celano delle problematiche serie, che si dia la stessa importanza e la stessa velocità nella tempistica anche al licenziamento di questi provvedimenti, che secondo me hanno un'importanza superiore ad altri. Per le famiglie che cosa significa convivere con queste problematiche? Noi qua siamo per rivendicare i diritti dei nostri figli, oltre ovviamente il mio, per rendere, diciamo, la vita più dignitosa, perché sono anche loro esseri umani, parliamoci chiaro, perché non è giusto sempre aspettare, diciamo, comodi, propri e magari noi combattiamo per avere il nostro diritto, perché se siamo qui oggi è proprio per loro, noi genitori siamo proprio rivendicati i diritti per loro, perché come si dice, il guai è quello che chi ce l'ha. Come ho diritto per mio figlio, hanno diritto tutti, tutti secondo me, cioè l'unione per me deve fare la forza, speriamo che le nostre richieste, i nostri diritti vengono accolti come si deve, come la vedo io, ma non solo per me, per tutti, diciamo, le mamme che stanno qui dietro di me. Io sto parlando anche a nome di tutti, non solo per mio figlio, ovviamente per i figli di tutti, ok? Se siete d'accordo. Per gli ultimi ragazzi speciali!